Agli istruttori di palestra la crisi di governo è costata tre mesi di blocco dei sussidi. L'ultima tranche di aiuti, infatti, era terminata a dicembre, avrebbe dovuto venire rinnovata a gennaio, in quel famoso decreto ristorico che non ha mai visto la luce perché nel frattempo era caduto il governo Conte. La situazione pare ora essersi sbloccata, anche grazie all'intervento della neo-sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali, ma l'iniziativa del nuovo governo Draghi ha riservato una brutta sorpresa. I contributi sono divisi per scaglioni di reddito e chi nel 2019 non aveva raggiunto una determinata fascia, è il caso di chi fa l'istruttore di palestra come secondo lavoro, si è visto dimezzare il sussidio. È arrivato come collaboratori sportivi ai miei istruttori, che ovviamente non hanno potuto lavorare, fino a dicembre 2020, perché poi, come sappiamo, hanno bloccato tutto per i mesi di gennaio, febbraio e marzo, cosa che stanno sbloccando in questi giorni, ma che non sono notizie che speravamo, diciamo. Per la maggior parte chi fa poche ore durante il mese, che non arriva, che lavora in più palestre, è in difficoltà, perché prende 400 euro al posto di 800 in questo periodo che già non sta lavorando. Tutto il sistema degli aiuti sembra non funzionare. La regione la scorsa primavera aveva messo dei bandi per le piccole imprese. Le pratiche erano state approvate a giugno. A Samuela, che gestisce una palestra a Vigevano, erano stati assegnati 6.000 euro di contributo a fondo perduto, ma oggi ne sono arrivati meno della metà. A partire dal primo lockdown abbiamo avuto la possibilità di partecipare ad alcuni bandi regionali, vincerli anche, ma in realtà ci è arrivata una cifra pari più o meno alla metà di quello che avremmo dovuto prendere e il resto è rimasto in sospeso. Peggio è andata con il bando dell'Agenzia delle Entrate. 1.000 euro assegnati a giugno, altri 2.000 a ottobre. Non è arrivato niente. Le due pratiche sono bloccate. Non ci rispondono, non ci dicono perché, se c'è qualcosa che non va. Per richiedere questi aiuti, inoltre, bisogna attraversare una giungla burocratica che costa tempo e denaro perché è indispensabile avvalersi di consulenti, quando la sfortuna non ci mette lo zampino. Andrea, che ha una palestra a Robbio, approfittando del primo lockdown per trasferire l'attività in un edificio a risparmio energetico, ha potuto riaprire solo per una settimana in ottobre e in quel breve lasso di tempo non è riuscito a completare la complicata trafila burocratica per comunicare i dati degli iscritti al CONI, perdendo i contributi. Abbiamo fatto i lavori in questa nuova struttura completamente da zero e a ottobre finalmente ce l'abbiamo fatta riaprire. Nonché questo il 20 di ottobre, il 26 ci hanno richiuso. Si è stati sfortunati perché la tranche di ottobre per gli aiuti e i contributi di fondo perduto a noi non ci sono stati confermati. Proprio perché su dieci clausole per accedere a quel fondo, nove le avevamo corrette, la decima era avere 25 persone iscritte sul portale del CONI che noi per questione di tempi non siamo riusciti ad adempiere.